Botanica è uno spettacolo musicale, artistico e allo stesso tempo di divulgazione scientifica che riguarda un aspetto fondamentale del nostro mondo, cioè le piante. Immaginate che siano capaci di riapplicarsi autonomamente e che i loro prodotti di scarto non inquinino. Questi congeni così sofisticati esistono, si chiamano alberi. Le piante esistono sul pianeta da ben prima degli animali e grazie alle piante è possibile la vita animale sul pianeta. Noi ce ne stiamo dimenticando, però è da loro che dipende la nostra sopravvivenza. Con questo spettacolo abbiamo messo insieme 11 brani alternate a delle spiegazioni in modello conferenza scientifica che serviranno ad aprire una nuova prospettiva su un mondo che noi molto spesso ignoriamo completamente.